E' in programma giovedì 28 gennaio la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra il comune di Agropoli e la Malfitana Gas che fornisce la possibilità ai cittadini di allacciamento gratuito alla rete del gas metano e all'installazione dei relativi misuratori. L'appuntamento è alle ore 10 e 30 presso l'aula consigliare del comune di Agropoli. Saranno presenti il sindaco della città Adamo Coppola, il geometra Vincenzo Labraca, l'ingegnere Alberto De Flammineis e l'architetto Maria Teresa Mazzitelli, rispettivamente direttore tecnico, direttore dei lavori e amministratore di Amalfitana Gas.